beh dai un po' l'ho lavata oggi eh dai dopo gli do una secchiata sopra che così va via anche la polvere direi che siamo quasi a posto via facciamo ritorno perché qua da solo non vado dentro lì c'è giù una palta esagerata non vorrei che rimango dentro nella tana del vampiro mi tocca lasciarli la moto anche a me dopo a me dopo comunque tanto profumata non è l'acqua oserei dire proprio per niente ma ancora che palle qua vecchi di sabbie mobili ecco meglio non Grazie a tutti.